Ciao amiche, ciao amici, siamo giunti al 300esimo video, già fatto 300 video, risposta alle vostre domande. Questo mi dà molto orgoglio da un certo punto di vista e anche, diciamo, sono contento del fatto che comunque le domande ci sono state. E sono state molto di più che di 300. Io mi scuso in anticipo a tutte le persone alle quali non ho ancora risposto, ma alle quali risponderò. E siccome le domande che arrivano sono veramente tante, è possibile che mi sfuggano, per cui potete tranquillamente ripeterle, non stancatevi di ripeterle eventualmente, perché comunque risponderò. L'unica cosa che chiedo sempre è di postare le domande nei commenti ai video e non inviarmene via mail, whatsapp, perché non riesco proprio a seguire fonti, canali diversi. Quindi seguite il canale YouTube, anche perché comunque le domande che voi fate possono essere spunto di riflessione per altre persone. Per cui vorrei creare proprio un'interdipendenza positiva. Se uno me le manda in privato, le leggo io ma non le legge nessun altro, per cui non sono spunti di riflessione per me, ma non per gli altri. Io voglio che il vostro, diciamo, vissuto comunque sia patrimonio di tutti, perché ciò che viviamo noi può veramente aiutare tutti gli altri a dare degli spunti di riflessione. Bene, per questo video è tutto, quindi se vuoi fare una domanda postala nei commenti, riceverai un video di risposta e divulga questo video in modo tale che anche altri possano usufruire del servizio. Ciao!